Monsignore, ci apprestiamo a vivere la prima beatificazione di un livornese, Monsignor Pio Alberto del Corona. Come la dovremo vivere? Come un evento storico, mai è successo prima nella storia di Livorno che un livornese arrivasse agli onori dell'altari. Vuoi? Perché Livorno è una città che è nata nel 1500 e quindi tanti secoli di cristianesimo li ha vissuti come un borgo, non come una diocese e quindi le persone significative venivano inserite nell'alveo della diocese di appartenenza che allora era Pisa. Dalla sua nascita, la diocese è nata nel 1800, quindi recentemente, questo è il primo santo livornese. Pio Alberto del Corona è nato in Venezia, orfano di mamma, ne soffrì non poco e si capisce, lei è una mamma e sa cosa vuol dire, e quindi si legò tantissimo alla Vergine di Montenero, come tutti i buoni livornesi, e sviluppò un sentimento molto forte e si dedicò totalmente a Maria. Divenne un figlio di Maria prediletto, si consacrono i dominicani, divenne un illustre studioso dominicano, un illustre predicatore dominicano, un illustre padre spirituale dominicano, fondò un ordine di suore, fondò scuole, fondò istituzione a favore dei più poveri, lui che aveva sofferto non poco, poi fu nominato vescovo a San Miniato e a San Miniato si dedicò in maniera infaticabile, proprio per i più poveri, viaggiando sui carri, prima non c'erano gli automobili, è stato vescovo alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, con i barrocci, andava in giro per tutte le parrocchie di San Miniato e ci sono racconti che fanno vedere l'entusiasmo popolare, addirittura non riusciva a entrare in chiesa dalla gente che si accalcava intorno a Pia Alberto del Corona, ovvero già in vita era nota la sua santità. Come è successo per Padre Pio, come succede ora per Papa Francesco, folle, strabocchevoli, andavano incontro a Pia Alberto del Corona. Pia Alberto del Corona poi a causa della cecità che l'aveva colpito si ritira da San Miniato e poi morirà a Firenze dalle suori dominicane che aveva fondato. Ma già in vita avvengono fatti singolari, guarigioni, grazie alla sua intercessione, grazie alla sua preghiera, miracoli veri e propri. E dopo la morte tutto questo cresce, invece che diminuire, ma com'è morte? Sottoterra, finito. No, cresce la devozione verso Pia Alberto del Corona, cresce la devozione, crescono le grazie, crescono i miracoli, avviene un nuovo fenomeno simile, non uguale, simile a quello di Montenero. E si vede che Pia Alberto del Corona, morto, ma ascolta, risponde, agisce, opera come Gesù quando era in Palestina. Vedete, quando la Chiesa beatifica una persona, è il segno che è arrivato in Paradiso, che è sicuramente in Paradiso. Perché siamo sicuri del Paradiso? Ma semplice, perché ci sono migliaia e migliaia di questi uomini e donne. Il Papa, ma quanti ne beatifica? È un continuo. Papa Ratzinger ha dovuto fare il decentramento dei Santi, tanti ce n'è. Alcuni, i maggiori, in San Pietro, altri, nelle diocesi, ovvero, la cosa più precisa, le beatificazioni nelle diocesi. La santificazione, che è il secondo livello, è l'apoteosi, allora in San Pietro. Questo per dirvi cosa? Scorrete il calendario, andate su internet, guardate i nomi dei Santi, una marea incredibile. Ovvero, sono tutta una serie di fenomeni, di fatti, come quelli che sono avvenuti, che stanno avvenendo a Montenero, che ti dicano che te non sei fatto per morire, basta. Te non sei fatto per essere mangiato dai vermi. Te non sei fatto per finire la polvere. Sei fatto per vivere per sempre. Pia Alberto il Corona vive per sempre. Qual è il segno della persona che vive per sempre? Ti ascolta, ti risponde e agisce come noi. La beatificazione di Pia Alberto il Corona ti dice che ti sei fatto per il paradiso e non per la polvere. La beatificazione di Pia Alberto il Corona ti dice che ti sei fatto per il paradiso e non per la polvere.